È partita la scorsa settimana a Novara l'operazione Parchi Sicuri. Almeno due volte alla settimana, gli agenti della polizia locale di Novara, insieme all'unità cinofila, saranno presenti nei vari parchi della città, in centro e in periferia, per presidiare questi spazi e controllare che i parchi siano sicuri per i numerosi bambini e le famiglie che li frequentano. I parchi, spiega l'assessore alla sicurezza e polizia locale Luca Piantanida. Sagra della patata. A Monte Crestesi, da giovedì 22 a lunedì 26 agosto, la trentesima edizione. Tutte le sere dalle 18.30, apertura del ristorante con servizio ai tavoli. Spettacoli, danze e spazio giovani. Ti aspettiamo!